buona giovedì 15 ottobre sta ancora albeggiando un po buio e piove potremmo chiamare la pioggia sorella pioggia perché nutre il terreno dal quale riceviamo nutrimento e rispetto al quale abbiamo perso completamente di vista la dimensione feconda della terra abbiamo massacrata come ho già detto anche ieri sentimentificata abbiamo resa per certi aspetti quasi impermeabile e naturalmente questa pioggia desta preoccupazione allarme crea anche disagio per chi è abituato a muoversi con mezzi senza copertura biciclette motocicli e i mezzi di traporto si riempiranno oltre misura si creeranno sicuramente degli intasamenti del traffico ma tutto questo non dipende dalla pioggia dipende da noi dal nostro modo di vivere da come abbiamo dissestato l'equilibrio idrogeologico e quindi siamo diventati insensibili a questa fantastica mutazione del clima che per sua natura è finalizzata a mantenere salda la vita del pianeta e questo equilibrio l'ha raggiunto nel corso di miliardi di anni oggi noi rapidamente rischiamo di far saltare tutto almeno dal nostro punto di vista dalla nostra presenza nel pianeta poi la vita probabilmente troverà un suo modo di esprimersi questo pianeta anche senza di noi perché comunque noi siamo una piccolissima parentesi nella storia dell'universo una infinitesimale parentesi nella storia dell'universo e quindi dovremmo essere chiamati costantemente a vivere il nostro rapporto con il clima con la natura con gli altri viventi in modo più sobrio più attento più consapevole della nostra ignoranza della nostra inconsapevolezza se una persona si muove al buio o in luogo sconosciuto di solito se non è un temerario piuttosto discutibile si muove con prudenza con attenzione con la dovuta con la dovuta paura che però si sposa in maniera armoniosa con il coraggio oggi tutto questo non si vede all'orizzonte e guardate c'è un aspetto che anche nel mezzo di informazione di ieri mi ha ancora una volta sorpreso e non finisco mai di sorprendermi allarme i contagiati sono oltre 7.000 dal virus ovviamente poi ci sono tanti altri acciacchi e aggressioni alla nostra salute pensate all'inquinamento ma di questo ovviamente non si fa parola perché se mettiamo mano a quell'argomento dovremmo rivedere radicalmente il modello di sviluppo allora la ridistribuzione delle risorse economiche dovrebbe mettere in discussione quella produttività che è foriera di sostanze tossiche che incidono profondamente sulla nostra salute ma ripeto su questo non si spende una parola soprattutto in questo tempo in cui sarebbe più che mai necessario occasione straordinaria per rivedere il nostro modo di vivere che a sua volta avrebbe delle conseguenze radicali sulla percezione che noi abbiamo del mondo e quindi sul nostro equilibrio umorale sentimentale cioè sulla salute mentale che anche in questa occasione si tiene fuori dalle condizioni contestuali perché c'è un farmaco che faccia passare la paura del virus e naturalmente si diciamo alla paura legittima se sei angosciato senza paura è chiaro che poi io ti do un farmaco per far sì che sia ansiolitico o stabilizzi il tuo umore ma è questo il frutto di una assenza di approfondimento di quell'angoscia senza apparente oggetto perché in realtà l'oggetto c'è sempre ma non è di questo che oggi vi voglio parlare ma tenetelo ben a mente questo non c'è distinzione tra angoscia e paura ansia è un intreccio tra elementi consapevoli e inconsapevoli ed è quell'intreccio che puoi spingere persone a disadattarsi alle condizioni ambientali e naturalmente un sistema di cura deve prima di tutto puntare l'obiettivo verso una accettazione delle condizioni date non per subirle ma per trasformarle e naturalmente questa trasformazione è capace di mettersi in moto se noi non ci fossilizziamo su una realtà che riteniamo immutabile ebbene torno all'informazione 7000 contagiati addirittura poi il fare concitato non sto parlando dei fake news di internet di tutte queste robe qua dei media social che in qualche maniera poi sapete ognuno strombazza quello che gli pare dicono fesserie a manetta non sto parlando di questo sto parlando di professionisti dell'informazione giornalisti di rango gente anche che si ritiene molto progressista quindi molto razionale non allarmista tutt'altro lì che hanno raggiunto l'equilibrio psicofisico per dare le informazioni corrette che crede in una informazione neutrale tra parentesi tutte balle naturalmente ma non perché siano menzoglieri questi probi giornalisti ma semplicemente perché la realtà tu non la afferri cristallizzandola ti sfugge costantemente quindi dovresti adeguare la modalità di dare notizie dati e informazioni alla parzialità della conoscenza e quindi dovresti essere molto più sobra no tutt'altro anche il tono della voce assume toni allarmistici e qual era il punto uno dei tanti punti di ieri che voglio sottolineare si affermava che mai come ieri era stato così alto il numero dei contagiati e si portava come esempio il punto più alto di marzo non mi ricordo il numero preciso ma più di 6.000 contagiati piccolo problema in quel tempo vennero fatti 26.000 tamponi e che in termini percentuali significa una cifra molto più elevata a quella di ieri 7.000 erano a fronte a 152.000 testati e naturalmente i testati non rappresentano l'universo della popolazione ma una parte che ha vissuto un fattore di rischio presume di essersi potuto contagiare perché pensa di aver contattato persone contagiate quindi non sempre naturalmente è vero che si siano effettivamente esposti al rischio ma lo sospettano oppure effettivamente sono stati sottoposti al rischio allora sapete qual è la percentuale 4,8 per cento e naturalmente si parlava di crescita esponenziale però quella crescita esponenziale rispetto ai due giorni precedenti ieri in realtà era una lieve decrescita questo nulla toglie che la situazione richieda prudenza attenzione senso di responsabilità collettiva assolutamente ma non si fa così non si creano allarmi che generano stati di ansia di paura di angoscia che gettano nel panico e soprattutto che attraverso quel panico cercano in tutti i modi di nascondere la realtà dei fatti e rischiano di non indirizzare verso la via giusta la popolazione tutti noi siamo chiamati di fronte a questa epidemia a rivedere radicalmente il nostro modo di vivere ma con consapevolezza con consapevolezza della nostra fragilità della nostra ignoranza che non ci deve mai rendere presuntuosi tutt'altro ci deve rendere ricercatori di verità e allora applichiamo il paradosso della prevenzione cioè fare qualcosa senza allarmismi senza grandi aspettative su un vantaggio per noi stessi se io smetto di bere io l'ho fatto qualche decennio fa il primo risultato non è un vantaggio solamente per la mia salute inciderà in parte molto limitata sulla mia salute perché il mio corpo è è esposto a tanti altri fattori di rischio non è che se smetto di bere elimino tutti i fattori di rischio neppure se smetto di fumare cioè il paradosso della prevenzione ci insegna a fare qualcosa che per noi è solo pochissimo utile e che contribuisce in modo infinitesimale alla bene comune al benessere alla salute della comunità queste sono le piccole cose chiaro che indossare una mascherina distanziarsi usare magari la passeggiata anziché intasare l'ambiente con le macchine o intasare i mezzi pubblici quando possiamo camminare movimento fa molto bene alla salute naturalmente poi se il movimento avviene in un contesto un po meno inquinato fa ancora più bene alla salute sono piccoli gesti apparentemente insignificanti e in un contesto rassicurante e ponderato che rendono possibile l'uscita da questa situazione che non è più drammatica di qualche mese fa tutt'altro ma questo non ci deve né rassicurare né allarmare siamo chiamati a rivedere radicalmente il nostro rapporto con la salute mentale col nostro modo di reagire e col nostro senso critico di fronte a una informazione che è disastrosa e che sembra in qualche maniera assecondare al desiderio consumistico al porre fine a una condizione che ci insegna qualcosa non perché il virus voglia insegnare qualcosa non c'è non è in gioco la pedagogia del virus ma noi dobbiamo imparare che non si deforesta non si inquina non si agiscono comportamenti dissipativi si accenna alla necessità di non distribuire belle bande alcoliche dopo una certa ora ma contemporaneamente sarebbe bene ricordare che l'alcol etilico è lesivo per la salute è potenzialmente lesivo ed è oggettivamente lesivo per la salute di tutti non solo per quelli che noi abbiamo deciso che si chiamano alcolisti che gli stati d'ansia di angoscia appartengono a ciascuno di noi non solo a quelli che abbiamo definito i depressi troppe etichette abbiamo disseminato nell'ambiente che fissano la realtà in maniera quasi immutabile ma la realtà muta costantemente usciamo da questa presunzione di rendere i depressi degli oggetti gli alcolisti degli oggetti destinati a essere sempre tali siamo noi a definire la cronicità non come lo scorrere del tempo ma come un'etichetta che rimane appiccicata alle persone liberiamoci da tutto questo e soprattutto in questi giorni in cui l'allarmismo cresce in modo epidemico e devastante cerchiamo di ritrovare ragionevolezza equilibrio mentale e senso critico fate un esercizio molto semplice dividete semplicemente con una calcolatrice potete farlo anche a mano il numero dei contagiati e il numero dei tamponi e tenete in conto quel risultato percentuale confrontatelo con l'inizio e scoprirete banalmente che sì è in corso una infezione e la presenza di un virus ma se noi prendiamo delle precauzioni sensate non allarmistiche e soprattutto ci proiettiamo verso il futuro caratterizzato da un'attenzione primaria verso il bene comune ebbene quel futuro potrebbe ritornare a donarci un'immagine straordinariamente bella nei confronti di ciò che ci circonda allora in quel giorno sicuramente potremmo dire sorella pioggia che nutre il terreno che a sua volta rappresenta il fondamento del nostro terreno noi siamo nutriti da nostra madre terra e noi dobbiamo assolutamente rispettarla onorarla e in qualche maniera anche temerla temerla ma non è un timore legato alla paura ma è un timore reverenziale legato alla sacralità della vita se riusciremo a fare questo sicuramente avremo fatto un piccolo passo in avanti verso una vita autenticamente sobria fondata sulla relazione d'amore buona giornata a tutti grazie a tutti